go life abbiamo un'amica simpatica era in una posizione volevo prenderla ecco qui eccola la eccola vedete avete visto qui tanti simpatici eccola qua ecco si è rimesso della posizione di prima adesso con lo zoom con lo zoom lola vedete perché ieri è così versi eccola quasi si è si vede si vede ora qui si vede eccola qua e anche questo è un parente dei rettili eccola qui eccola qua se vediamo e rimane ferma così croco dai un abbraccio grande a mio figlio croco da il dd quello sì che amava la natura